rieccoci rieccoci finalmente a parlare di un un argomento che mi piace tanto quando si parla di serie c serie d e compagnia cantante a me piace tanto cosa è successo questa settimana in questa settimana dove la serie c in italia è stata l'assoluta protagonista successe oddio in alcune parti cioè per quanto riguarda il girone c il girone sud praticamente non è cambiato nulla non è cambiato nulla oddio in coda qualcosa è successo ma in avanti il catanzaro con iemmello super iemmello liquida 3 a 0 la gelbi sono un paperaccia del portiere fa un super gol il primo primo un gol super quello di iemmello il secondo una paperaccia del portiere vince anche nel posticipo una bella partita devo dire un po bloccata dove si è sbloccata su calci piazzati ma che ha avuto un finale veramente incandescente turis pescara ha vinto il pescara 3 a 2 tiene il passo del catanzaro in attesa della partita della partita di domenica all'adriatico dove ci sarà lo scontro diretto tra pescara e catanzaro una partita che non vorrei perdermi sinceramente non so se vorrei perdermi questa partita qui va avanti anche il crotone che potrebbe approfittare di questo scontro diretto attenzione in una direzione nell'altra in un'altra ancora il crotone che a viterbo ha messo in mostra ragazzi un super chirico super cosimino chirico salentino doc veramente ci sono certi certi giocatori che veramente faccio fatica a capire come non siano arrivati in serie a veramente ci faccio fatica ragazzi ma dribbling tiro no vabbè guardatevi gli highlights su youtube di viterbese crotone guardatevi cosa combina chirico ragazzi un giocatore veramente di altra categoria ma un giocatore che è sprecato in serie c è spreca sarebbe sprecato addirittura in serie b per me un giocatore del genere mamma mia quanto è forte e niente oltre alle tre principali protagoniste del torneo nel girone c in zona playoff c'è il solito mischione vabbè invece molto è successo nella zona bassa della classifica bella vittoria dalla fidelisandria del grande dudu ex giocatore senegalese dell'andria che ora è tecnico pro tempore ma che sta facendo bene ha vinto con la monterosituscia domenica scorsa non meritava di assolutamente di perdere a crotone a crotone dico a crotone io veramente spero per gli amici andriesi che vi porti la salvezza questo ragazzo in zona salvezza che altro è successo l'avellino ha perso a picerno ed è adesso in piena zona play out ad avellino non neanche l'arrivo di rastelli sembra aver fatto sembra aver fatto chissà che non è un bel momento non è un bel momento tre schiaffoni della virtus francavilla al taranto di di ezio capuano che diciamo per il momento la virtus si trae fuori della zona play out però diciamo che per le pugliesi non è una grande annata per le pugliesi di serie c il monopoli ha perso in casa del giuliano insomma l'unica vittoria l'ha ottenuto il cerignola a foggia a porte chiuse per i fatti di foggia bellino in una rimonta storica è una rimonta storica ragazzi il foggia davanti 2 a 0 poi la perde 3 a 2 squadra veramente secondo me hanno già buttato nel cesso la stagione a foggia però comunque il girone c è questo qua gran bagarre dalla zona play off in giù e poi questi tre squadroni che fanno una stagione a parte passiamo al girone a dove tenta la fuga il portenone approfittando del ciapano degli altri in questo momento sembrano aver trovato il passo gli uomini di Carlo vincono mi sa con Novara o no si vincono con Novara 1 a 0 se non sbaglio si portano a 5 punti hanno 5 punti di vantaggio adesso davanti a Renate alla Prosesto che ha vinto in casa di Renate e mi sa è l'Ecco che ha vinto 3 a 1 col Piacenza mi sa che c'è l'Ecco secondo molto bene la Juve Next Gen molto bene che ha vinto in casa della Pro Patria adesso in piena zona play off ha vinto anche in Vicenza ha vinto bene in Vicenza ma non riesce ancora a vincere il Padova 2 a 2 con l'Albino Leffe in coda invece c'è stato il sorpasso ora sotto c'è di nuovo il Piacenza l'ultimo posto ma del Trento il mio fallimento il mio fallimento in quanto alla Serie C perde in casa con la Virtus Verona adesso è in piena zona play out con la Triestina un po' meglio sta il Mantua che comunque è sempre quinto ultimo se non sbaglio dove invece c'è grande 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 bagarre nel giro 1 e B veramente il giro 1 e B è troppo bello è troppo bello e spettacolare in genere quando ci sono di mezzo le Toscane come ho sempre detto storicamente si vedono pochi gol pochi gol io ricordo un giro 1 e A di Serie C2 dove era pieno di Toscane raga tutti 0 a 0 1 a 1 1 a 0 reti proprio col contagocce se ne vedevano invece invece questo abbinamento dell'Italia centrale con la Sardegna veramente stiamo vedendo cose un bello spettacolo devo dire ora in testa c'è la Reggiana che ha vinto una partita per niente facile in casa della Torres ha vinto da grande squadra ha approfittato no perché la Torres ha attaccato eh invece poi la Reggiana ne ha approfittato con la Nini l'altro gol non ricordo di chi due sbavature difensive dei Sardi è andata un po' così eh dietro la Reggiana c'è il Gubbio che ha vinto bene a Lucca devo dire bella doppietta di Arena eh non c'era un Bakogu eh bella doppietta di Arena Lucchese in 10 per una doppia espulsione di un loro difensore è caduto il Cesena è caduto il Cesena eh in casa con l'Ancona con gli Spagnoli Cesena che ha praticamente dominato la partita una di quelle partite dove non vuole entrare eh eh l'Ancona ha avuto due occasioni in una ha preso ha preso il palo e nell'altra ha fatto gol cioè sono quelle partite che vanno così e non ne approfitta Lentella che va a pareggiare in casa del Sandonato Tavarnele ultimo in classifica cioè guardate che cazzo di campionato è questo qua cioè eh Roma da matti ora ci si ricordo c'è il Cubbio che domenica mi perde in casa 3-1 con la Re Canatese e poi va a vincere a Lucca un campionato completamente folle pazzo un campionato pazzo tant'è che si sono riavvicinate la Carrarese ha fatto un bel salto che ha vinto con l'Olbia soffrendo ha vinto con l'Olbia sottolineo e Rimini che ha vinto fuori casa in casa proprio della Re Canatese si è avvicinato la zona playoff ragazzi c'è una mucchiata nel girone B è micidiale abbiamo Reggiana Gubbio Entella poi Cesena Carrarese Fiorenzuola Fiorenzuola che ha perso a Pontedera il Rimini l'Ancona la Lucchese è veramente un mischione pauroso nel girone B è veramente troppo bello io penso che alla fine io vedo favorite Reggiana e Cesena secondo me è una fra Cesena e Reggiana che andrà in B secondo me perché oggettivamente hanno una squadra un po' superiore Lentella Lentella l'ho visto contro Cesena non mi dà l'impressione di una squadra che possa vincere il campionato non lo so davvero non lo so non mi dà quell'impressione Lentella davvero no in coda in questo girone qua grande colpo importantissimo del Montevarchi in casa dell'Imolese pareggio che non serve a nessuno tra Vispesa e Fermana soprattutto la Fermana che adesso è penultima resta ultimo il San Donato Tavarnell mentre l'Alessandria ha perso col Siena ho dimenticato il Siena è vero ho dimenticato il Siena nel mischione di alta classifica ma anche sono una play out abbiamo l'Alessandria la Fermana il Montevarchi la Vispesaro il San Donato veramente è una bella lotta anche il San Donato Tavarnello oddio lo vedo un po' un po' così la Re Canatese in lotta il girone B è quello più bello è quello più bello in assoluto soprattutto in testa il girone C vabbè si c'è il mischione dal quarto porto in giù ma avanti se la giocano tre squadroni cioè se uno pensa che almeno una fra Catanzaro Crotone e Pescara non andrà in B ma voi ci pensate che fallimento queste tre squadre che stanno facendo un campionato assurdo cioè per dirvi hanno 38 35 e 34 punti cioè o 38 34 33 ora non ricordo hanno 38 34 e 33 punti dopo 14 partite cioè per dire il Pordenone ne ha 29 che è in testa del gironea ne ha 29 cioè roba incredibile addirittura la Reggiana ne ha 27 invece del girone B cioè ragazzi vi rendete conto che a che livello sono quelle tre squadre lì che cosa sono queste tre squadre lì mettiamo che ne salga una per il girone è una sale ai playoff cioè almeno una fra Catanzaro Crotone e Pescara fallirà la stagione cioè vi rendete conto cos'è il girone C cioè davvero in genere quando c'era la serie la serie C1 la serie C2 i giroli meridionali erano un po' meno competitivi erano un po' meno competitivi per dire un anno l'anno in cui il Barletta sfiorò la serie B salirono in B il Parma al nord il Messina il Taranto a sud è un'altra che non ricordo il Parma dopo qualche anno sarebbe salito in A il Messina poi sarebbe fallito il Taranto anche ma lo stesso quando salimmo noi in B oddio Piacenza il Padua dopo qualche anno andò in A Piacenza retrocesse poi risalì e poi andò in A anche il Piacenza invece noi e il Catanzaro si fecero alcune buoni stagioni poi torniamo dovevamo tornare purtroppo invece quest'anno raga abbiamo tre squadre che stanno veramente facendo il vuoto io non so in un'ipotetica serie C unica come in Inghilterra ma sarebbe bellissima non la vorrei perché a me mi piace la serie C così com'è però pensate a un campionato con Catanzaro Crotone Pescara cioè Cesena Reggiana Lucchese Siena Pordenone Padova Vicenza raga ma che serie ci sarebbe sarebbe quasi più bella della serie B cioè no raga e niente domenica godiamoci su Pescara Catanzaro domenica c'è anche la B sabato c'è anche la B godiamoci su Pescara Catanzaro nella consapevolezza che una fra Catanzaro almeno una fra Catanzaro Crotone e Pescara falliranno la stagione iscrivetevi al canale C'è anche la B